Rossi, ancora Bagni, Conti, palla che spiove in area, il colpo di testa ed è gol, Altobelli ha portato in vantaggio la squadra italiana al secondo minuto del primo tempo, Altobelli di testa su cross di Conti. L'Italia è in vantaggio con un colpo di testa di Altobelli, Altobelli aveva già giocato molto bene la partita ultima della nostra nazionale a Roma contro il Messico, non aveva avuto la soddisfazione del gol, l'ha trovata adesso con un aggiustato colpo di testa al secondo minuto, l'Italia è in vantaggio per Pena. Ancora Conti, nuovo cross di Conti, Altobelli, bellissimo il passaggio a Caprini, Altobelli a Caprini indietro e Caprini raddoppia al diciottesimo. Ancora Altobelli al centro della realizzazione, sul cross di Conti la palla ha scavalcato, vedete tutta la difesa, Altobelli indietro a Caprini, al volo Caprini centra l'incrocio dei pali. Caprini al diciottesimo e l'Italia conduce per 2 a 0. Un bel cross, Ismail 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 Paragalli, il tiro di Ismail poi accorcia il risultato Tufeci con un gol segnato al ventesimo sul respinta della nostra difesa 2 a 1 adesso è il risultato al ventesimo e la partita si riapre e la partita si riapre 3 a 0. 3 a 0. 5 a 0. 3 a 0. 3 a 0. 5 a 0.